La responsabilità civile dei magistrati, ma soprattutto una vera applicazione dell'affido condiviso con anegua frequentazione dei figli da parte di entrambi i genitori e il mantenimento diretto per parte. Siamo stanchi di essere raggirati dalla magistratura. Il popolo ha fatto una legge, la 54-2006. La magistratura non può prendere per il culo il popolo italiano.